Cari ragazzi, come vedete, questo è il mio piccolo studio dove ho lavorato tantissimi anni, sono qui a Cinecittà. In effetti non è stato solo Cinecittà, ho lavorato a De Paoli Studio, sono lavorato alla Pontina all'epoca con Dino De Laurenti, ho fatto tantissime cose. Parlerò del mio lavoro, che forse molte volte non è ben visibile, questo luogo di scenografo non è molto visibile. Io vi aspetto e vi racconterò tante tante cose, vi farò capire che cos'è la scenografia.